Buongiorno, io sono venuto a Piantazione Tua qua a Piacenza Nord, io lo so sempre Piacenza Nord, tu dopo mi dici dove ci siamo in questo momento e che pianta hai piantato? Allora, siamo a Guardamilio, provincia di Lodi, al ridosso del casello Piacenza Nord, qui c'è una piantagione di circa 4 ettari, 2200 piante di Polonia Codemisa Nord, la pianta è stata messa a dimora i primi di maggio, sono state messe a dimora, prima è stata fatta l'impianto di irrigazione con tubi di politieme da 20 con gocciolatori da 2 litri ore, Sì? Dopodiché una volta messa a dimora abbiamo atteso 40 giorni in modo che la pianta attecchisse e la pianta è partita in modo autonomo con un forte apparato radicale ed è diventata, ci sono alcune piante che superano in 3 metri o in 3 mezzi. Peccato che non si può entrare perché piove, però io lavoro sempre, notte al giorno e quando arrivo in un posto non conta, piove, nevica, ore e notte, si deve fare, lavoro quando si deve fare, si deve fare. Io sono contento e devo vedere tutte le piantazioni perché è meglio che io so tutto quello che succede e interveniamo quando c'è qualcosa. Assolutamente, c'è una buona relazione tra me e la società, in particolare con te Adrian, c'era un fatto telefonico continuo e costante, è meglio di più, meglio si fa senza paura, si deve parlare sempre con un collegamento molto giusto, si va in avanti molto meglio, secondo me, solo che tante volte sono stanco, tante volte arrivo del notte, non si può fare tutto quando voglio io, dipendono, dipendo da tante cose, sempre. Sì, poi voglio dire, è capitato un paio di volte che si è passato, pioveva sempre, pioveva e voglio dire, anche se non ci siamo incontrati, si è venuto a vedere. Sì, ho visto anche da che non sono visibile sulle piantazioni, io le vedo, le guardo e dopo subito parlo con il cliente, che sei te, che è un altro, però un collegamento giusto è sempre in collegamento diretto. Ora la pianta, si vede che sta andando in periodo di senescenza, le foglie stanno ingiallendo e stanno per cadere. Sì, però è verde, si vede? Però è verde e cresce, è cresce. Si vede, si vede, si vede. Siamo in attesa di fare il taglio tecnico. La primavera si fa il taglio tecnico e io voglio fare vedere ai clienti, alla gente, che la Paolonia piove, non si vede bene, mi dispiace per questo film che non è bello, però è importante che parliamo sempre e siamo d'accordo sulle cose che si deve fare, si deve fare.